I composti di zolfo e l'odore dell'aglio sembrano essere particolarmente fastidiosi per le formiche. Questo ingrediente naturale aiuta a metterle in fuga e mantiene la casa protetta da questi piccoli intrusi. L'origano è una pianta dalle molteplici qualità terapeutiche, antibiotiche e antinfiammatorie, grazie al suo contenuto di fenoli e betacarie fillene. Per questo viene sfruttato sia in medicina alternativa che in prodotti di bellezza come antisettico e antiossidante. Sedante. Un rimedio naturale per eliminare i baffetti consiste in una miscela a base di miele, farina di avena e limone. Anche in questo caso, la depilazione non è immediata, ma progressiva nel tempo, cioè tende a indebolire i peli fino a ridurli. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Anche in questo caso, la depilazione non è una miscela. Grazie a tutti